signori buongiorno oggi parliamo di investimento immobiliare ma cosa dicono gli esperti perché vedete noi prima di fare tutti questi video ne abbiamo girati oramai un'infinità prima di fare questi video abbiamo studiato siamo andati a fare dei corsi siamo andati imparare dai migliori siamo stati anche da bardolla siamo andati a vedere un po come funzionava tutto questo mondo in questi giorni io poi sono un curioso mi addentro perché un amico mi dice ma guarda che se tu vai e digiti perché investire nel mattone in realtà i relatori che parlano di questa tematica ti dicono di non investire nel mattone allora sono andato a vedere sono andato a vedere un po mi sono messo lì e un po di giorni che guardo quello che capita e ho notato un denominatore comune in tutti i video che ho visto più di uno e in realtà mi dico ma gli esperti cosa dicono ma la prima domanda che mi devo fare ma chi sono questi esperti e vedendo questi video vedo che gli esperti sono ragazzi che hanno 25 non avranno 30 anni e che ti parlano del mondo immobiliare dandoti dei termini in inglese dandoti dei dati delle percentuali e allora mi sono detto ma cavolo ma io ho 62 anni nel 1976 all'età di 15 anni lavoravo in cantiere con mio padre ho aperto la mia agenzia nel 1986 sì che ad oggi sono 47 anni che sono nel settore immobiliare e ho tutto da imparare mentre sento questi ragazzi che parlano e loro veramente sanno tutto sanno un mare di cose però vedo che alla fine di tutto quello veramente il denominatore comune alla fine è guarda i tuoi nonni hanno sempre fatto così i tuoi pa i vostri padri hanno sempre fatto così ma non è giusto tu devi lasciare i soldi lì investi in criptovalute chi ti chi fa trading chi e ti dicono che quello è il modo sbagliato di allora sono andato un attimino a fondo si è andato a vedere ma chi sono questi influencer ma soprattutto questi influencer da chi sono pilotati e qual è qual è lo scopo che portano avanti ma quali sono le competenze io ci ho scritto un libro ho scritto un libro che tra l'altro adesso lo sto facendo ristampare diario di un uomo libero 43 anni di esperienze di errori non di cose lette di cose vissute sulla mia vita che ad oggi sono 47 anni eppure vedo questi ragazzini che vivono a dubai in un hotel fantastico sono in piscina che bevono champagne dicono in effetti io non ho capito nulla perché io vivo ai ceb da suta che tradotto in italiano è occhieppo inferiore passa il rio romioglio vicino a casa mia e ogni tanto mi bevo una menabrea menabrea una delle birre più buone che fa parte del territorio biellese territorio straordinario di cui vi voglio parlare oggi ma questi con 20 25 anni muovono cose ho capito ho capito il denominatore comune è che sono tutti ragazzini giovani leggono un copione e molto probabilmente non sanno neanche di cosa stanno parlando i loro video sono tutti tagliati e montati non c'è un filo conduttore unico ma è logico perché per bravi che sono quale esperienza possono avere se io vi dico che ha 47 anni di attività ho tutto da imparare possibile che questi ragazzi oggi sappiano tutto e ti dicano come soprattutto devi vivere perché tu devi se non vivi a dubai se un barbone se non bevi champagne voli con un jet privato ma non sei nessuno ragazzi ragazzi voi che non vivete a dubai voi che non magari non li guardate questi evitate di guardare perché non è vero non è vero questi ci danno delle statistiche percentuali allora sono andato informarli sono andato a vedere un attimino queste statistiche e se voi andate a vedere tra le varie società c'è un marasmo incredibile non ce n'è una di queste statistiche che sia veritiera perché la stessa statistica ha fatto fare da più società da dati completamente diversi poi loro si difendono dicendono ma no noi il nostro target è questo per cui abbiamo sono perdonatemi il termine balle su balle allora qualcuno mi potrebbe dire a questo punto sì vabbè ma lo stato non mente è quello che abbiamo sempre pensato tutti l'abbiamo sempre pensato prima di questa epidemia che c'è stata l'abbiamo pensata poi abbiamo visto personaggi come questo fare delle affermazioni ma non 30 o 40 anni fa l'ha fatta un anno fa due anni fa ma queste affermazioni erano vere io ti pregherei di una riflessione voi io non guardo la televisione ma ne sentite talmente tante ma corrispondono a verità questa signora questa bella signora con i suoi bei capelli grigi puliti ben pettinati con il taglio la moda ma perché ha fatto lievitare agli italiani il mutuo del cento per cento ma voi sapete quante persone io lo vivo tutti i giorni io non vivo dubai e non bevo e non bevo champagne vivo ai ceb da suta lavoro a biella e qualche volta mi faccio una benabrea ma sapete quante famiglie io vedo quotidianamente che sono in grandi difficoltà perché il mutuo da essere 500 600 euro è andato mille a 1200 euro ma lo stipendio è rimasto quello e la classe politica la classe dirigente italiana quella che è messa lì per tutelare il popolo italiano cos'è che ha fatto allora mi domando ma lo stato mente o non mente mi devo fidare e io sono nel settore questa cosa l'ho vista l'abbiamo vista tutti il 110 per cento ma sapete quante ditte artigiane che davano da lavorare a innumerevoli persone creando del denaro etico ho visto rovinarsi perché hanno creduto quello che veniva detto dalla nostra classe politica quindi dallo stato e hanno fatto grandi investimenti come è finito il 110 ma poi vi dico come è finito il 110 la nostra classe politica che cosa ha fatto per giustificare un incremento del 100 per cento delle bollette dell'enel del gas il gas che prima lo prendevamo non si può nominare lo prendevamo da quello la adesso invece lo prendiamo dai nostri alleati e costa dieci volte di più ma il popolo questa cosa com'è che ha potuto assorbirla e perché capita questo perché hanno lasciato che il carburante arriva di arrivi dei prezzi che è allucinante ma io mi ricordo quando c'erano signori le lire ma il barbè era il miglior barbè era che trovavi non costava 4.000 lire e passa 4.500 lire aumenti al litro e quindi è vero che è vero che lo stato loro a questo punto non mente mi devo fidare di quello che vedo di quello che leggo sui giornali ma sempre nostra classe politica il carrello della spesa signori abbiamo visto tutti cosa che cosa che lievi com'è lievitato vediamo tutti itali anche se poi in media non ne parlano ma questa è una riflessione per arrivare al mondo immobiliare i tagli i tagli che la nostra classe politica ha fatto la sanità persone che hanno lavorato una vita dissanguandosi di tasse per poter avere una sanità i tagli che sono stati fatti ingiustificati per fare cosa per mandare armi in zone di guerra che diventano il sangue degli innocenti allora io non lo so se dobbiamo ancora credere a tutto quello che ci viene detto perché questi signori guadagnano da 15 a 20 mila euro al mese oltre i bonus e hanno fatto questo hanno fatto in modo che i nostri pensionati oltre a non avere una sanità devono andare a rovestare nell'immondizia per poter mangiare perché poi vediamo che ci sono migranti e qui mi fermo non voglio andare oltre perché molti sostengono che siano degli schiavi che hanno 900 euro al mese quando i nostri anziani hanno pensioni da fame e vogliamo parlare dei portatori da handicap quindi io vi direi facciamoci una riflessione andiamo a vedere perché se voi guardate vi stanno dicendo di lasciare il denaro in banca allora mi chiedo vedendo tutte queste cose ecco la riflessione e che ci porta il mondo immobiliare vedendo tutte queste cose ma perché voi aprite voi andate a vedere perché investire nel mondo immobiliare escono un mare di video allora vedrete dei ragazzi che appunto vivono in città molto belle quelli che si fermano con la lamborghini arriva l'altro e dice scusa scusa ma per avere una macchina così cos'è che fai sono tutte pagliacciate e questi signori parlano in inglese no perché tu hai devi stare attento a ROI return on investment ma wow real estate and important and lucrative business perché tu hai business plane signori l'italiano è la lingua più bella e completa al mondo perché questi parlano in inglese perché vengono indottrinati da questi questi sono quelli che con la macchina olivudiana signori prima hanno sterminato milioni di indiani quelli che sono rimasti vivi facendo con la loro macchina olivudiana facendovi vedere che loro erano magnanimi perché gli portavano le coperte per l'inverno però nella macchina olivudiana non vi han detto che quelle coperte avevano il vaiolo e questi indottrinando le scuole vanno indottrinare i giovani influencer di oggi che vi dicono che tutto sbagliato è un lavoro da vecchi quel lavoro lì lo facevano i vostri nonni i vostri padri tu oggi non devi fare quello no tu devi lavorare nelle criptovalute tu ti devi mettere in borsa tu devi lasciare i soldi in banca ebbene io vi dico che non è così non è così nella maniera più assoluta ma non perché io ho letto fatto i corsi di queste multinazionali che stampano denaro dal nulla e poi prendono i loro influenza che ti parlano in inglese perché a dirvi la verità oggi volessi seguire una lingua che non è quella italiana ma non capisco perché non posso parlare in italiano perché io non posso parlare di progetti di utile d'esercizio perché devo avere il real estate no io sono un agente immobiliare opero nel settore immobiliare se dovessi parlare un'altra lingua forse andrei parlare il russo perché non so perché malbrix che se non altro stampa denaro su una riserva aurifera lo trovo molto più sicuro della macchina hollywoodiana e sapete col 110 per cento ma questo ve lo dice ve lo dice il poveretto che abita i ceb da sutta vicino al romeoglio e che si beve una buona menabrea ogni tanto è capitato questo che questo bagno che voi vedete prima del covi noi con 89 mila euro ricostruivamo un bagno così dopo il covi signori fare un bagno così va da 16 a 20 mila euro e perché tutti questi aumenti da cosa sono dovuti voi pensate a creare a costruire una casa a costruire un palazzo perché tutto in proporzione allora perché devo credere a quello che mi viene impartito da questi organi è meglio che faccio la mia economia e che vedo per me per i miei figli qual è la cosa più utile da fare perché mentre tutto questo sta capitando noi vediamo questo schifo qui nella nostra classe politica in quelli che dovrebbero darci le dritte in quelli che dovrebbero lavorare per il popolo italiano e mi chiedo magari voi sapete darmi risposta ma quei sacchi di immondizia pieni di contante che abbiamo visto girare ma che fine hanno fatto quello perché io vedo che i pensionati devono vivere con 500 euro di pensione al mese io vedo che per fare un esame all'ospedale devi attendere mesi su mesi su mesi e la girano i sacchi di contante e poi quelli vanno nei media e ti raccontano che tu non devi comprare immobili lasci i soldi in banca allora signori tutto questo per dirvi fatemi una domanda ci sarà un perché questi spingono affinché tu lasci i soldi in banca io non credo più in quello che viene detto particoli media lo li ho spenti ma non credo in quello che dicono le istituzioni perché vedo che tutto il contrario di quello che un'economia sana che mette in mercato del denaro etico stanno facendo chiediti il perché perché che sia perché magari sai con un semplice click trudeau docet insegna che con un click io ti spengo perché i tuoi immobili devono venirli a prendere non è un click semplicissimo fatto da una di queste macchine infernali e non li devono venire devono vedere un po e un po più e poi io creando immobili creo denaro etico eccolo qua eccolo qui ma è quello che l'elite signori non vogliono voi pensate nel restauro di una casa l'ho scritto nel mio libro signori se lo volete ve lo mando gratuitamente ho fatto fuori mille copie ma non l'ho fatto per venderlo quando ho scritto questo libro al 2019 l'ho fatto perché volevo fosse un incipit ai giovani al fare io sono nato in una famiglia non ho vergogna a dirlo dove c'era fame dopo cena e ho dovuto impegnarmi ho dovuto studiare ho dovuto lavorare di giorno e studiare di notte per poter fare qualche cosa e allora ho voluto scrivere un libro a memoria per i giovani che hanno voglia di fare noi quando facciamo un cantiere creiamo un mare di denaro etico che rimane sul territorio diamo il lavoro gli artigiani i negozianti i liberi professionisti diamo lavoro immobilieri diamo lavoro ed è denaro che rimane sul territorio ma questo l'elite non lo vogliono ecco perché se tu vai a vedere perché comprare immobili vedi questi ragazzini che ti parlano in inglese tu non capisci niente quello che dicono ma alla fine il sunto che cos'è lo facevano i tuoi vecchi che come montagné erano dei rincoglioniti tu adesso fai come me viaggi con Lamborghini arriva quello col telefonino che ti chiede ma come fai avere una bella macchina ma adesso arrivo da Dubai ho appena finito lo champagnino ero lì con la bella tipa no poi vai a vedere quei personaggi chi sono da chi sono finanziati cosa stanno facendo non crederci non credere a nulla l'influenza e non seguire queste persone sono l'emblema del nulla quelli sopra hanno le mani sporche e generano denaro etico le persone sotto sono un cancro per la società dei giovani se sei un giovane non seguire gli influenza non imparerai nulla e se hai dei risparmi da parte questi te li porteranno via se tu segui quelli sopra se tu vai in cantiere tu impari un'arte impari un mestiere che ti potrà far vivere tutta la vita e il tuo lavoro genererà denaro etico a favore di una collettività e basilare questa cosa ma c'è un posto e arrivo il dunque adesso qualcuno mi dirà ecco tutto questo panigirico per arrivare a dire che lui vende no io vi voglio parlare del biellese perché ti voglio parlare del biellese perché guarda dove è collocato il biellese lo vedi siamo pochi minuti dalla Svizzera siamo pochi minuti dalla Francia un'ora e mezza siamo il mare abbiamo la Lombardia lì vicino e la Valle d'Aosta che confina con noi eccolo il biellese dove è messo non ti sto dicendo che qualunque investimento immobiliare rende no perché ci sono zone e il fuoco qua è emblematico dove il mercato ormai è arrivato a tappo se vai a comprare a Milano se vai a comprare a Torino se vai a comprare a Firenze se compri a Napoli se compri a Roma stai molto attento non ti dico che lì non devi comprare ma stai molto attento perché il mercato è arrivato ad essere ai massimi livelli compreresti l'oro 60 euro al grammo per poi rivenderlo 70 ma se non te lo compra nessuno 70 60 è stato il massimo adesso sta scendendo e così il mercato immobiliare ecco perché ti dico il biellese perché noi siamo in una zona che è di una bellezza emozionante e abbiamo un mercato che ti permette di fare investimenti che rendono tantissimo se tu compri a Milano indubbiamente non sbagli ma è come comprare l'oro 60 euro al grammo non hai un incremento del valore e il rendimento che tu avrai da locazione in zone come queste è minimo allora loro lavorano chi fa l'influencer questi ragazzini champagne dubai e ferrari questi ti dicono no il mercato immobiliare non rende più perché ti prendono i parametri peggiori ma io ti posso dire che nel biellese noi abbiamo dei rendimenti da locazione che nei cinque anni superano il 15 per cento netto devi calcolare che adesso te lo dirò nei cinque anni poi il prezzo andrà a lievitare quindi a quel rendimento lì ci devi ancora mettere l'incremento del valore il biellese il biellese signore è un territorio straordinario e in questo momento nel biellese e non sto facendo pubblicità alle nostre abita sto facendo pubblicità ad un territorio nel biellese abbiamo degli agenti immobiliari preparatissimi e bravissimi e soprattutto non sono agenti immobiliari abituati a vendere robe da milioni perché noi qua a differenza degli influencer che viaggiano col ferrari champagne e dubai noi qui ci facciamo passami il termine un culo della madonna per vendere la casa da 20 da 30 da 40 da 50 mila euro qui c'è gente che ha voglia di lavorare tu oggi nel biellese in una zona che è meravigliosa poi te la farò vedere compri a dei prezzi che fanno ridere e la locazione è molto richiesta quindi il tuo denaro ha un rendimento altissimo ecco perché arriviamo ad avere anche dei 15 per cento netti netti dal rendimento dopo cinque anni un giorno la persona fisica non paga tasse sulla plusvalenza non ha il 26 per cento e nel biellese fra cinque anni e un giorno dalla data in cui tu hai comperato specialmente se compri in questo periodo gli immobili lieviteranno ma lieviteranno da darti un altro utile oggi e questo lo dicevo con l'industriale di milano oggi converrebbe nel biellese individuare le cose buone comprarle e lasciarle lì perché fra cinque anni un giorno nessuno di questi influencer ti ha fatto rendere il denaro quanto te lo facciamo rendere noi questa è una considerazione che ti prego di fare vedi il crimine oramai si è svelato prima del covid eravamo tutti in uno stato di torpore ora soltanto gli stolti corrotti non percepiscono quello che sta capitando ecco perché il denaro fermo tu non lo devi lasciare devi andare a cercare delle zone di mercato dove investire vuol dire veramente investire vuol dire mettere il tuo denaro in una cassaforte dove il consiglio di amministrazione sei tu non c'è dietro tutto un apparato che scrive cose che tu non sai decifrare che ti emettono delle percentuali che sono false completamente false l'abbiamo visto durante il covid tu compra nelle zone giuste puoi comprare a milano puoi comprare a torino stai attento ad individuare l'immobile giusto ci ho scritto un libro abbiamo lanciato un corso in rete lo trovi nel nostro sito che poi apparirà lo puoi comprare lì un costo il costo è irrisorio entrato un mio amico e cliente che mi ha detto siglio veramente sei un insulto perché perché quel corso lì doveva costare 10 mila euro tu lo stai regalando ma perché il mio intento non era quello di vendere il corso ma era veramente di creare uomini liberi come nel libro che ho scritto il crimine si è svelato signori qui a biella e poi te lo traduco noi diciamo al malfe al ponendo i re tradotto in italiano il malaffare non può durare e da troppo tempo che dura questo malaffare e allora ecco perché e qui faccio una marchetta al biellese biellese territorio straordinario questa è la nostra community il biellese qualcosa di fantastico non pensare che ti sto proponendo di comprare case a cocomaro se con tutto rispetto per cocomaro queste città in piena noti propongo di comprare case in una enorme enorme museo che contiene delle bellezze inenarrabili te ne dico alcune poi tu google e vai a vedere vai a vedere che cos'è rosazza il santuario d'europa i laghi che circondano il biellese il parco naturale della vessa vai a vedere che cos'è il ricetto di candelo vai a vedere l'oasi segna i castelli del biellese guarda cosa sono che meraviglia in balle d'oste abbiamo dei castelli bellissimi dell'anno dell'anno 1000 1100 sono quasi tutti crollati qui li hai tutti integri quando hai visto quello veramente dirai biellese territorio straordinario vai a vedere che cos'è il parco della burcina o il parco naturale della baraggia vai a vedere che cos'è la via ferrata dell'inferrone che puoi fare con i tuoi bambini le pedalate in bicicletta che puoi fare nelle nostre nelle nostre terre sono fantastiche camminate bellissime come quella che ti porta al lago della vecchia e i colori che prende il biellese in quattro stagioni perché adesso arriva l'autunno i colori saranno meravigliosi come sono belli d'inverno in primavera o in estate le vie ferrate le nostre montagne che sono palestre a cielo aperto a costo zero capisci dove ti sto dicendo che devi comprare e non in abita perché il biellese pieno di bravi agenti immobiliari di bravi agenti immobiliari se non ci conosci e ti ho incuriosito spero di sì vai a vedere chi siamo ci trovi su tutti i social come abitabielle agenzie immobiliare biellese territorio straordinario e la community di cui ti parlavo prima ti pregherei di andare sul nostro sito vai e lì trovi tutti i video delle proprietà che noi proponiamo in vendita e anche la storia di queste case oppure sul mio profilo che è silvio zuppichiatti questa signora è la nostra sede qui è tutti i numeri del caso avessi delle delucidazioni c'è un ragazzo che dalla calabria ha seguito il corso che abbiamo lanciato online che puoi acquistare comodamente dal nostro sito e alla quarta o la quinta operazione immobiliare ogni tanto mi scrive mi chiede mi chiede dei chiarimenti su alcune cose io sono felice di darglielo perché quel ragazzo è diventato un uomo libero si è inventato una professione e chi ti sta parlando con questa faccia vissuta di 62 anni ha 47 anni di esperienza alle spalle sicuramente non mi vedi arrivare col ferrari e non mi vedrai a dubai a bere champagne sono qui che lavoro sono qui che lavoro mediamente 10 12 ore al giorno ma di quello che ti dico non temo smentita e lo sto facendo da 47 anni il biellese signori il biellese è questo è è una meraviglia è un museo cielo aperto dove ti potrai veramente perdere nelle nostre montagne che sono le nostre palestre nei nostri laghi nelle nostre colline iscriviti al nostro canale youtube ti prego iscriviti e attiva la campanella così ogni volta che avremo delle opportunità di investimento tu sarai tempestivamente avvisato avete visto era una è stata una un video lanciato a favore del biellese non di quello che abbiamo in vendita noi e se questo video ti è piaciuto spollicciona lì in su che a noi fa sempre piacere compra immobili metti al sicuro il tuo denaro non credere più a nulla non credere più a nulla parlano bene parlano in inglese ti incantano ti spiegano che i tuoi nonni erano dei rincoglioniti montagne erano rincoglionito ti spiegano che i tuoi padri hanno sbagliato tutto loro viaggiano con lamborghini e bevono champagne sono dubai tu che cazzo fai forse non è così che la luce sia con voi